Dopo l'emergenza Covid abbiamo deciso di attrezzare i parchi pubblici, gli spazi verdi all'aperto con strutture sportive per permettere a tutti i cittadini di fare sport e attività motoria all'aperto. Questo obiettivo per far sì di valorizzare queste aree verdi, ma anche per dare a tutti i cittadini la possibilità di usufruire di questi attrezzi liberamente. È un progetto che prosegue e vedrà la realizzazione di altre aree fitness in altri luoghi verdi della nostra città. Grazie per la visione!